Complimenti a te intanto per il premio, ma anche alla squadra perché è uscita veramente a testa alta. Sicuramente questi ragazzi hanno dato tutto, abbiamo dato tutto. Ovviamente alla settima partita l'energia era quella che erano. Non abbiamo una rosa come l'Inter e questo purtroppo alla fine si è visto, però usciamo da questo torneo a testa alta sapendo di aver fatto il massimo e di averci messo il cuore. Ci dispiace ovviamente per il risultato, per non essere riusciti a portare la Coppa a casa, però usciamo a testa alta e questo è importante. Adesso che gli dici a Mandorlini che hai anche quel premio lì insomma? Sono contento per questo premio perché vuol dire che ho fatto bene. Comunque ci tenevo, sono sceso per questo, per dare una mano alla squadra, comunque sempre per dimostrare il mio valore. Niente, continuo da domani, forse un giorno di riposo, poi da dopodomani inizierò a lavorare e su quella prima squadra come sempre. Torni su con quali prospettive, magari con più consapevolezza adesso? Ho già giocato due partite quest'anno in Serie A, sono contento di come ho fatto e adesso torno su cercando di essere sempre pronto nel momento in cui verrò che ho metto in causa e per migliorare ogni giorno. Insomma, spesso si parla dei vincitori morali e è la volta giusta, insomma, siete voi i vincitori morali. Sì, abbiamo fatto un gran torneo, usciamo a testa alta, siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto. Mi dispiace perdere così a tre minuti della fine, però usciamo a testa alta. Quanto ci avete creduto anche col gol di Cappelluzzo, ma non solo, insomma siete andati davvero vicini? Sì, dopo il gol di Cappelluzzo ho detto dai che la portiamo fino in fondo, magari di chiudersi, portare le rigorie. Oggi è andata male in quell'episodio lì che ci ha punito e purtroppo usciamo così, però sempre a testa alta, come ho detto prima. È stato un torneo in crescendo il vostro, dalla prima partita contro New York in cui comunque qualche difficoltà c'era stata, poi siete arrivati oggi a tenere testa all'Inter. Sì, 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 siamo partiti così, così. La prima partita non l'abbiamo fatto bene, poi però con l'aiuto del mister siamo ripresi e siamo arrivati fino qua meritatamente, direi. Va bene così. Allora, com'è stato giocare, anche solo un tempo, ma però un tempo di gran intensità, una partita del genere con l'Inter? Guarda, è stata un'esperienza unica per me, perché ho giocato solo una partita in questo torneo, essendo nuovo ovviamente, però questo mezzotempo ha valso più di tutte le partite che non ho giocato, perché in un campo così, in un stadio così, con tutta questa gente, una maglia nuova, bisogna far bene, entrare, era molto concentrato e sono davvero... usciamo a testa alta e... però comunque rimane l'amarezza in bocca. Amarezza, ma comunque c'è già tempo per ripartire, anche per te, come ti trovi in questo gruppo? In questo gruppo mi trovo benissimo, mi hanno accolto a braccio aperto e sono davvero contento, perché di solito i nuovi sono messi in disparte, diciamo, però non è stato così, infatti sono molto contento, no? E adesso proseguo col campionato, che siamo messi abbastanza bene e dobbiamo crescere su alcuni punti di vista.